Buonasera cari amici Benvenuti sul mio canale Stasera ho preparato delle temperature in padella E' una ricetta adatta sia ai vegani che ai vegetariani E vi invito quindi a vederla e a provarla Vi ringrazio per continuare a seguirmi sempre più numerosi E se volete essere informati su quando uscirò la mia prossima videoricetta Vi invito a spuntare il campanello per troverete anche il mio nome Grazie e buona visione In una padella ben calda mettiamo due cucchiai di olio extra Avergine d'oliva Facciamo soffreggere un peperone rosso e un peperone giallo Le facciamo rosolare a giusto qualche istante E aggiungiamo due zucchine e due carote tagliate a dadini Poi aggiungiamo anche un 150 grammi o 200 grammi di funghi Per agevolare la cottura aggiungeremo anche un 200 grammi di acqua E sale ed eventualmente pepe se vi piace Mescoliamo e portiamo a cottura Coperte con un coperchio a fiamma vivace Le verdure stanno cuocendo Io ho deciso di aggiungere delle mandorle tritate Questo è facoltativo A me piace quel senso di croccantezza che mi danno le mandorle Il trutto al liquido a questo punto si è asciugato E hanno cotto 20 minuti Questa ricetta è molto facile Spero che vi sia piaciuta E continuate a seguirmi sempre più numerosi Ciao e grazie per il like Grazie per la visione